Saluta! Ciao ragazzi! Ho qui con un nuovo video! Prisodata falsa di Daria! Ok allora, siamo qui in su, aspetta che controllo se, ok, speriamo che registri bene perché non ha mai registrato bene. Come non ha registrato bene? Eh, episodi che facevamo, tipo, quello di B3Runner non ha registrato l'audio, quello di Crash ha registrato tagliato, questo vediamo cosa succederà, no. Eh vediamo. Oggi giochiamo a, Daria gioca a Sonic. Non ci ha mai giocato, non ci ha mai giocato, perfetto. Non so che devi correre e basta. Dovevamo fare quattro livelli, ma invece ne facciamo soltanto due, perché non abbiamo tempo. Allora, inizi con questo, ok? Vai vediamo. Papi, allora, con questo usi il turbo. Ok. Con questo ti muovi. Ok. Con questo, eh... Tanto gli sbaglio lo stesso, dimentico. Con questo vai, va bene, buona fortuna. Vai vediamo. Eh, vado intuito. Vai intuito. Cosa devo fare? X. Vai, ragazzi, io metto le cuffie qua vicino. Ok. Vai col tuo po'. Oddio. Cosa devo fare? Con il XSAT in teoria. Sì. Ok. Tipo adesso. Uh, che pro, ragazzi. Spito sempre. Spito sempre. Spero di usare quelli dietro. Come quelli dietro? R1, R2 per R2 di Firestart. Ah, che figata. Mi rilancia per tutto questo. Sì. Cazzo è? Oh. Ho cliccato a casa. Sì. Non si è fatto bene. Vado giù, vado giù. Sardiamo. No, no. Cazzo devo fare? Scegli, scendi. Ok. Adesso devi premere il triangolo, là. C'è Y, triangolo. Triangolo. Merda. Triangolo. Ok, buona. Ah, quelli sa, fai lo stesso. Ok, grazie. Ma vaffan. Ma vaffan. Ma vaffan. Ma vaffan. E' profanità di niente. Si capisce niente. Ma si andiamo avanti. Ma in salta. Salta. Oh. No, no, perché fai un cerchio. Ma non lo so. Come faccio andare da sopra? No. No. Se preme un'altra volta X mentre sei in volo, vado con una scia. La trovo premere X è un'altra volta. Ma qua non lo fa. Eh, vedi? Si va bene. Ah, ma si ma lo fa dritto. Si lo fa dritto. Io devo andare ancora più su. Come faccio andare ancora più su? Eh, tieni premuta su. Tieni premuta X. Tieni premuta X. Ah, se tieni premuta X salva qui in alto. Ah. Se tienilo prima, no? No. Ah, no. Io ti dico che questo livello ha fatto 1,59. qui. Sopra. Eh, adesso intanto. No. No, no. No. Sopra. 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 No. Non so se cliccare. Sto cliccando a caso. Quando viene fuori quell'L premi questo qui. Muovino un po' in giro. Muovino un po'. Sì. E' un po' la roba a caso. Ma le cadute o... Quando... Merda! C'ho fatto! Quando viene fuori quell'Centro. Ma io non capisco di dire se sono troppi effetti. Quando vedi che viene fuori tiangolo... No! C'è che miro che ho guardato. Quando vengono fuori... I bersagli, i nemici, i click X li colpisce. Cioè... Che senso? Colpisce, cioè... E' quando viene fuori il bersaglio. Dei premi X. Su dire. Dai, porta. Mi ha giù. Ecco. Adesso vai giù. Adesso X. Vieni. Oh! La stivisare i pulsanti a rinunare. Che sono? Non mi vedo. Che fino. R1R L1 per girare la testa. Si mi smacca. Eh, è facile. Sono troppo pronto. Vai. Eh, vedi. Adesso ti puoi. Adesso. Vai. Adesso devi fare quello che ti dice Neutroge. Che devi provare R2. Eh? R2 e c'è Regi alla destra che... Che sgombi praticamente. Oh, non capisco niente. Oh, non capisco niente. Oh, c'è che cadono. Oh, c'è che cadono. Oh, salta. Salta. Mertò. Ok. Ma come faccio? Uh, salta. Eh, che proghi sono. Adesso? Eh. Ah, ciao. Per fare tipo... Allora, c'è anche... No, no. Faccio andare sopra. Eh, ce la fai, ce la fai. Se ti ne hai premuto ce la fai. Eh, sì. Faccio. Oh, cazzo, merda. Adesso? Ho tornato indietro. Oh, merda. Oh, ancora è tornato indietro. No, no, no. C'è che adesso cade. C'è che si cade. No, no. No. Dai, sono ancora qua. Ok, poi ci siamo. No. Oh, lei. Dai, esce il sole del mare. Salta. Buono, ok. Vai, salta, non c'è di merda. Vai, salta. Buono. Vai, salta, non c'è di merda. Buono. Buono. Ah, ce la faccio così. Eh, sì. No. Ma una macchina, però. Eh, va bene. Arran. Buono. Buono. Mi schercia. Dai, turma. Buono. Finito il livello. Fili. Quanto ci ho messo? Adesso. Vediamo quanto hai fatto. Vabbè. Dai, dai, buono. 1,55. Io non ci ho messo. Ci ho messo 1,55. Fai avanti. 2,55. Adesso devi muovere i livelli con R1, L1. Eh, fai prima questo qua sotto. Eh, su. Spirolo su. Adesso L1, R1. Avanti. Allora, hai la possibilità di scegliere. O questo, vai avanti. O que... No, dietro. Questo. Oppure vai ancora avanti. Questa è mia. No. No, avanti avanti. Questa mi inspira. Eh, ma è lunghissimo. Non te lo consiglio. No. No. Ho questo. Eh? Questo. Vai avanti. Ho questo. Avanti. Vabbè, questo è deciso. Questo va, vai. A buona fortuna. Ciao. Ciao. Guarda che... Uuuuh. Adesso? Ehm... Devo saltare poi. Ah, ma è tipo... Uuuuh. Devi prendere... Eh, quello lì a caso. Devi fare. Sì, devo giù a caso. Non guarda, devi fermarti. Oh, merda. Spirolo. Occhio. Ok. Ok. Sulle nuvole salti. Oh, salti tu. Guarda, allora. Salvala. Eh, adesso va su. Sei a ritardo degli 20 secondi rispetto a me. Eh, vabbè. Capita. Dei tagli. Eh, vabbè. Eh, lo prende sempre una delle due mani. Sì, gioco. Bam. Bam. No. 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 È troppo l'ho, c'è sto gioco. No si capisce che succede... Eh, testimonio da un momento all'altro. E' un po' d'altro. Mi sei l'intissimo, no? Ah. Ah, adesso. 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 Ah, ok. Vai. Ah, ok. Ah, ok. Adesso. 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 Oh. No. 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 Dai. No. Questo non sapevo se poteva fare. non l'hai fatto te? no non l'hai fatto occhio 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 mamma mia oh guarda mi faccia fare tutto il notizio oh no che c***o dai adesso questa nuvola basta sognare ok ok muori no di nuovo merda occhio che muori vai no aspetta aspetta vai ok ok no aspetta indietro ho fatto lo spi no quella l'altra mamma mia che è stata occhio occhio che pro mamma ho scritto totalmente veloce ah adesso adesso da sopra c'è un pulsante se vuoi merda ma che c***o ok ok adesso vai vai continua normalmente oh oh merda c'hai troppo culo te merda no troppo mi presta Oh! Oh oh! Oh, ci sei riuscito! Vai, vai su! Merda, hai saltato tre volte! Vai! Non te ne sei accorto? No, a me ne so Ah, non sei Troppo freddo Qua Adesso, l'ho visto dei trampolini, la Vai al sinistra No, no Tipo metà, io qui non mi ricordo tanto ho fatto Oh, cosa, non lo so Non lo so No, no Sono pescato adesso Vai Sono morto tipo Nella 5 Vai, dai Dai Ma, adesso Vabbè, vabbè, vabbè Muori Muori, muori Muori, muori Vabbè, vabbè Sì, si Sì, si Che è l'era Fatima F Mert Sembra la Ferrari Chi 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 ok no lo sattare è stata voce bloccato la strada Buona dai oh di eh la c'è il teletrasporto eh devi prendere la strada oh merda oh, vai sopra un po' ok dove andare? eh lì, davanti ok, pronti corri corri buona ho messo un secolo ci avevo messo tre minuti anche qui il B devo se riesci a fare un A facciamo un'altra prova ti consiglio, non è facile ah prova si prova a destra no ma... questo no, questo si, questo vai 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 prova eh questo l'ho fatto io vai vai via vai vai hai rotto una padaria poi ah questo è più bello ma stasso tutte le macchine che cazzo se riesco mare ricordati BOOM adesso ah, ah, che c'hanno c'hanno la rampa ma prendi la rampa ah scheggia ah 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 eh no si ma è troppo no ah 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 al game switch va bello come i nemici esostrali in te ora c'è un cerchio colorato c'è un cerchio colorato se vuoi oh no per forza morire una volta è ovvio se non ma io ma dopo c'è l'altro si continua a far farlo ma perchè di nuovo? no e i cosini li devi colpire colizia eh si ma se no li lock no li lock basta che salti da ferro forse c'è io li lock ah si si ah ma c'è ah ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è no e devi saltare prima che merda devi saltare oh non riesco a passare quella parte devi saltare eh sembra facile ma pesce oh ne apri qua eh dai sembra in modo di scopertare ecco prova la no no ma dai ora è il peggio del peggio ecco adesso tranquillo eh si ma c'è dove va è là dove c'è il cosino eh senti devo passarla adesso oh che ma che ma che non ti lasciano passare quella parte serio prova la ma oh oh che volo no no dai eh adesso vai dove c'è salta e eh vai la giurata vai torbato eh almeno qui non è come su Ballistic che per andare a 2.000 allora devi aspettare 60 minuti eh buono adesso devi andare lì dove c'è la scala adesso sei a metà livello cioè in 2 secondi ho fatto a metà livello ah no devi colpire la roba già no eh ah figo adesso eh eh la ah ah vai la ma buono ah che cammino che l'ho tirata ah hai volato proprio Oh 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 oh. Oh 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 oh. I'm so moving. Non gatti a poco. 3 minuti e 4 e 3 Dio, chi ho dietro? Scappa! Scusa L1 e R1 per cambiare strada Sì, sì, ma devi stare attento perchè quando sei vicina Ma che? Ah, non mi trovava più Ma che volo Scusa, non ti mi fanno Aiuto! Scappa! Vediamo se Dario è riuscito a fare S O almeno A Ho fatto S B 3... B Bella Va bene ok 3B Ho niente da fare povero Dario Deve allenare Scasso scasso Bene ragazzi E al prossimo video Manca Simone perchè è in acqua E al prossimo video E al prossimo video